Giacomo Stucchi, presidente del Copasir. Dopo il caso della Francia, anche noi siamo spiati degli americani? Quando siamo stati in visita a Washington, a tutta l'agenzia dell'intelligence americana, è stata esclusa questa possibilità in quanto il sistema Prism, che era sconosciuto anche come progetto ai governi che sono succeduti nel nostro paese negli ultimi anni, è dotato, c'è stato spiegato, di una serie di filtri che dovrebbero impedire intercettazioni su dati sensibili di cittadini italiani e europei in generale e soprattutto dovrebbe essere impedita l'acquisizione dei contenuti delle conversazioni. Stiamo parlando in questo caso di metadati, cioè di dati che riguardano identificativi di chiamante, di chiamato, orario di chiamata, piuttosto che la durata di una comunicazione e non del contenuto. Stiamo parlando di dati che gli americani, in forma di, tra virgolette, metadati, considerano lavorabili e molto meno sensibili rispetto ai contenuti. Nel nostro paese, al contrario, metadati e contenuti sono tutelati allo stesso modo. Quindi, per quanto riguarda quello che è accaduto, ripeto, c'è stata esclusa questa possibilità da parte degli esponenti di agenzie più importanti degli Stati Uniti. Noi comunque abbiamo chiesto il governo di verificare, sulla base delle informazioni che sono uscite sui giornali anche in questi giorni a livello europeo e direi mondiale, visto che oggi è stato citato anche il caso della Sud America, se effettivamente qualcosa si è successo o meno.